E ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale siamo su GTA 5 per PS5 dopo il colpo alla Merryweather dove vi ho portato entrambe le possibilità Oggi siamo qui per continuare la storia ordinaria e continueremo insieme a Michael Like, iscrizione e tutto quanto quello che vi chiedo sempre per supportare ovviamente il mio canale Noi passiamo allo Santos che sarà una bella missione tosta perché sarà un po' spartiacque non nella storia di GTA ma nella storia privata di Michael Allora direi di switchare a Michael Che è all'anfiteatro a fare cosa? Ma che cazzo? Due stelle Così si fa Tre stelle Fra cosa? Cosa? Ma per un pugnetto Per un pugnetto Anche te però Eh venite sparatemi se avete coraggio dai Merda Questo non me l'aspettavo Però se vado a iniziare la missione che succede? Magari poi succede un cazzo eh Però chiedo Questa macchina qua la sto facendo proprio lentamente morire Anzi neanche lentamente Ma è distrutta Distrutta Come fa la macchina della polizia a correre quanto me Lo devo proprio sapere eh E vedi che ti stia Anche te Vai speronami vai Dai tre stelle sono esagerate però S'andà a fare la missione S'andà a fare la missione Cosa c'è Cosa c'è Con te Smogendo nella mia casa Svegli che Da quel palo psicotico Si è tornato Si è tornato In un più grande Sì Grazie Il tuo supporto In i miei tempi difficili Significa il mondo Per me Ho supportato Ho lasciato tutto Per venire con te E ancora Quello Il bambino Si è tornato Come? Non lo so Oddio però lei c'ha ragione Sempre nei momenti Più inopportuni Arriva sto qua No, please No No The yoga is for sharing Come, come Michele, come Awesome So, Fab If you could make me as happy And mellow as my wife It would be a job Well fucking done We are all on our own journeys Michele Yeah, no doubts Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michele Now here is good We have the sun And the moribunda The assol Now we begin to put the assol To the air Yes We begin each sequence Katasana Yes Or Mountain pose All right Un Deux Tres Mouth Anos 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 Deux Trois It is perfect Michael imbarazzatissimo Che deve fare questa roba qui I don't know about this In the nose Out the mouth Ok, doc Let it out You're turning red Ok Michael I never thought I'd see the day In and out with the breath, Michele It moves Amazing Now I won't reach my namaste It would be too much to laugh, guys All that hostility Insecurity And self-centeredness Drift away This is gonna have to do Now we'll do something more complicated Sometimes When I do this pose I weep uncontrollably For hours Oh wow You feel that The emotion inside Let it go Michael Join us Se fosse tanto italiano Avrebbe tirato una bestemmia Di quelle tipo potentissime Che avrebbero spaccato i vetri Questa è la posizione pisciata in mare Cambia aperte Io piscio così in mare Beh, come farei a prendere la Sirius Lee? Scusate Una cosa così Una cosa così Io avrei tirato un calcio E tirata in piscina Dopo questa affermazione We are the unknown Show us, Amanda I don't think Michael's up to this He may surprise you Plank Plank Chaturanga 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 Yeah Feel the flow Everything is flowing in me Mike Mike Would you Che devo fa? Hold your annus strong My child Cosa molto importante da sapere Not bad Ma Uno che tipo Non conosce il gioco Si unisce alla live adesso A cosa sta giocando? No vanity Come on A GTA 5 Famoso per Rapine Uccisioni Rubare le macchine No Stiamo facendo yoga Michael Anche qua Altro calcio In piscina anche lui Is this better than robbing Murdering And being an asswipe? Breathing is almost The most important thing No? Lengthen Strengthen Take in the air And release it Out with the breath We need to talk to the kids About having a family session What? You don't have to Your lungs They work, yes? Why don't you ask Fabian here What he thinks of your furs? Maybe this is too much For the big ape Prove you are not as pathetic As you look Breathe please, Michael Cosa? How's Suza's wrinkled lips Fabian's body With your bank account Would be the perfect man Breathing is almost The most important thing, no? Ok Perché me lo fari fa? Take in the air Forse perché ho mollato LR Prima del dovuto? We might be about to witness The first yoga induced heart attack Your lungs They work, yes? For me, Titor It's okay Breathe please, Michael Così non farò 100% Oh dearie me Oh Breathing is almost the most important thing, no? Valedette Terza volta che lo dici That's all the impurities coming out Take in the air And release it Out through the mouse The backward eye between your thigh Your lungs They work, yes? Your inner eye Breathe please, Michael My inner penis Can you wash that mat later? It's gonna smell all bloody And smokey And Michael Breathing is almost the most important thing, no? Niente Lo continuare a ripetere fino alla fine dei suoi giorni Take in the air And release it Very good Now let it go Good Your lungs They work, yes? When we met He was actually limber Ah È arrivato uno dall'ultimo Long way today, Michael Yes, later you will cry like a baby Yeah, right His chakras are completely blocked Don't worry about him Show me the downward door I'm glad we have helped with your impotence, Michael What'd you say? Your sexual energy Staccato No Back into my pelvis Back Yes, there you go Oh, 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 oh What? Enough of that No Yoga is the answer, Michael But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving And we are never coming back Ma meno male We are alone, you pathetic psychopath Fuck you And that Spony French Fucking yogi Jimmy You're still here? James Ria pacificarsi con Trevor È stato un danno da mille It's a good movie Nice TV Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Come on I want to go for a ride I gotta meet a friend All right So I'll go meet him with you Come on I want to get out of the house I'm not going alone Come on This is fucking bullshit It's a good movie Di merda La differenza di generazione Andiamo Eh, adesso ce la farà brutta Questa missione È stronza E anche triste Okay Please You know, you're really creeping me out I'm trying to relate to you No You're trying to take me on some nostalgia trip You're such a cliche Oh, says the dope smoking game playing live at home world owes him a living millennial I knew it I knew it The mask was gonna slip The monster's been exposed The hell you're talking about? The real Oops Bitter, addictive old man You pretend you're being a father But you hate me, don't you? I don't hate you, Jim How many times I love you You really have to meet my friend? There he is The friendly neighborhood drug dealer My one week marriage retreat Yo What's up? What's up, man? Good to see you What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad Oh, all right, Mr. DeSanto Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man Come on, do this shit and let's get going Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah, yeah, yeah Come on, what the fuck? Jimmy, just hold on a second Oh, all right, all right Later on Okay, but we're dead Hey, let's bounce Bounce We're bouncing Is that what we're doing? Jesus fucking Christ All righty then Now what? Can we just get back to the house, please? Mi da la Coca-Cola Col pasticcone Oh, ancora E fu così che a casa non ci arrivamo Maybe when we get home Bestronzo I'm starting to feel a little You're mine No Really? This is not normal? Well, you're just paranoid This is that paranoia This is totally justified You should see yourself Stop moaning Oh, I got to stop Atleta che a casa non ci arriviamo It's harmless That's been using it for decades Yeah, that's the time Yeah, fuck It's here From yourself Also, I took money from your bank account And I'm moving it No All right? You're too crazy No Senza macchina Senza famiglia Senza soldi Peso Adesso ci sono le scimmie malefiche Gli alieni sono d'altra parte Infatti le scimmie malefiche Non ci sono 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 le scimmie malefiche Vabbè questa caduta non si può controllare, anzi sì, anzi no. Invece si può controllare, vabbè, a me lo tiriamo prima. Mettere qui, va. Anche se poi siamo da tutt'altra parte. L'ha gottata. Dimmi che è vicino a casa. Sì, è vicino. Sì, zio, però dai. Andiamo. Ok, giustamente adesso che ce l'ha discesa ti sei ripreso. Cazzo duro. La lascio qui. A caso. I'm back! I'm back, sto cazzo. Ma... E ragazzi, se è andata così, non mi dare il 50 È dal 75 È perché ho perso l'equilibrio yoga Sennò ce l'avrei anche fatta Vabbè E quindi ci risvegliamo felicemente Con 1.031.000 Pensavo molto molto di meno Pensavo di rimanere a zero Invece no C'è ancora sta macchinetta che ho rubato Va bene, va bene E ragazzi, switch a Franklin e vi saluto Appunto Grazie ragazzi Ci vediamo alla prossima Con la missione che farò praticamente Quasi sicuramente per Franklin Da Adria è tutto Bacione Alla prossima avventura Alla prossima avventura Alla prossima avventura